Questo per me è uno dei campi più belli della primavera e entrarci tutte le domeniche da capitano comunque è una bella responsabilità, è una bella cosa. Sono ormai quattro anni, non da capitano, però che ci gioco ed è bello, è molto bello. Sinceramente con la fascia no, ce l'ho più col gagliardetto questo rito, con Manu e Marzocca, il dirigente che è stato il primo dirigente che ho avuto qua alla Roma e l'ultimo adesso che avrò nel settore giovanile a Roma a prescindere dall'anno prossimo e ogni volta prima di andare in campo mi dà il gagliardetto e io riporto quello dell'altra squadra. È un piccolo rito che comunque mi concentra. Quando mi hanno detto che la Roma mi aveva preso nei pulcini ero sicuramente molto contento ma non mi ricordo molto bene il giorno, però io con i miei, i miei fratelli e tutta la mia famiglia non ci saremmo mai aspettati comunque di arrivare fino a questo punto. La vediamo più come un'opportunità per divertirsi, per migliorare, a fare ciò che mi piaceva, però non avremmo mai pensato di arrivare fino a qua. Quando persone da fuori, fuori dalla mia famiglia, magari hanno iniziato a interessarsi a me come può essere un procuratore, un agente o qualcosa del genere, lì ho iniziato a capire che comunque potevo fare qualcosa in questo sport anche se non ho fatto niente ancora, però sicuramente so un buon inizio. Sicuramente quando ero entrato qualcosa in me avevano visto, però allenandomi tutti i giorni a Tricorio ormai da 10-11 anni sicuramente migliori giorno dopo giorno. Io sì, personalmente mi sento che anno dopo anno miglioravo sempre di più, acquisivo più consapevolezza e prendevo sempre un po' di più da ogni allenatore diverso che ho avuto. La differenza tra il settore giovanile a Roma e gli altri è che per mia esperienza personale, prima ti formano come uomo e poi come calciatore. C'è comunque un senso di appartenenza alla maglia molto forte, ma secondo me è più per una cosa di esperienze dentro la Roma, perché tu vedi Totti, De Rossi, Florenzi, Pellegrini, hanno tutti un'appartenenza forte alla maglia. Secondo me è una cosa che volendo o non volendo viene trasmessa a tutti i giovani ragazzi che comunque sono di Roma e giocano per la maglia che amano. Quando ti alleni vicino alla prima squadra è bello, quando ero più piccolo lo vedevo, era più una cosa emozionante, era un'emozione, era un qualcosa di raggiungibile. Poi piano piano, anno dopo anno capisci che magari ci sei sempre più vicino e fino alla prima volta in cui ti alleni è un'emozione forte, li vedi lì che sono in campo con te, è una cosa emozionante. La prima volta che mi sono allenato in prima squadra è stato sicuramente emozionante, mi hanno aiutato tutti quanti, sia magari lo staff che gli stessi giocatori, Lorenzo Pellegrini che era il capitano allora, pure Edin. E' bello, tu li vedi lì e non te l'aspetti, perché il giorno prima li vedi in televisione, li vedi da lontano e poi ci sei in campo con loro. All'inizio fa effetto, è strano, poi piano piano diciamo ci si abito. Il precampionato in prima squadra è stata una bella esperienza, è stato importante per me fare quei due o tre mesi con loro, estivi e per tutto, per il resto dell'anno mi ha aiutato, è stato formativo. Poi sono stato spesso con loro, molte convocazioni, molti allenamenti, quindi comunque è stato un po' un proseguire quel ritiro. Però sì, penso che sia stato molto formativo per me. Il ruolo in cui gioco non ha importanza, soprattutto quando lo faccio per la Roma, perché non lo faccio in modo egoistico, ma lo faccio pensando alla maglia, pensando alla squadra. Poi sì, magari io preferisco giocare a centrocampo, ma non ha importanza dove gioco, gioco. Io penso che l'accostamento a De Rossi sia una cosa bella per me, perché comunque lui romano, romanista, abitava vicino a me quando ero piccolo e sì, però penso pure che ognuno abbia la propria storia e rifare ciò che ha fatto lui penso sia impossibile. Quindi io penso a fare la mia, però sicuramente fa piacere. Il giorno più bello della mia vita, sì, fino ad adesso è stato quello. L'esordio con la maglia che si chiama è qualcosa di inimmaginabile e spero comunque di raggiungere un altro giorno magari all'altezza di quello che è l'esordio in Serie A con questa maglia. Ci sono stato vicino molte volte quest'anno e spero comunque di riuscirci, perché è una cosa che mi farebbe molto piacere. Roma mi ha dato tanto, mi ha cresciuto 11 anni, mi ha fatto cambiare sia come uomo che come calciatore. Quando indosso maglia a Roma penso come ogni ragazzo nato qui a Roma, tifoso della Roma, provo emozioni forti, è un qualcosa di unico e la cosa per me è che non mi ci abituo mai. Ogni volta che me la metto mi sento comunque, mi sento un senso di responsabilità, pur essendo capitano, mi sento un senso di responsabilità per questa maglia, perché è importante. spesso magari alcuni non lo capiscono e la prendono per scontato, però io penso che la Roma sia una maglia pesante, soprattutto per noi romani e romanisti. La Roma per me è qualcosa di speciale, è qualcosa che ho dentro, ce l'ho cucito sulla pelle. Sarebbe difficile non avere più la Roma con me, questo sì, però ora che ce l'ho me la goto al massimo e ringrazio tutti i giorni di stare qui. L'emozione di finire il settore giovanile dopo 10-11 anni che sto qui alla Roma è forte, diciamo sì, un po' di timore ce l'ho, però è qualcosa che comunque affronterò, comunque vado.